Ciao, come stai? Mi chiamo Elisa Agudo e mi dedico al coaching. Sotto il marchio Chi disse impossibile, ti posso offrire allenamento mentale ed emozionale per migliorare qualsiasi area della tua vita, sia personale oppure aziendale. Prossimamente avrai questo sito in italiano, ma per adesso mi puoi contattare oppure scrivermi se vuoi avere la migliore versioni di te stesso. Ti aspetto!